Altre tessere Dispositive Sono chiamate Dispositive le tessere da cui è possibile immettere e o revocare degli ordini. In questo video analizzeremo il modulo ordine, il multibook, il monitor. Modulo ordine Dalla prima voce Compra-Vendi del menu che compare quando si rilascia un titolo in uno spazio vuoto si accede al modulo ordine con le caselle in cui inserire il prezzo e la quantità dell'operazione e i bottoni Compra e Vendi. È possibile modificare velocemente il prezzo inserito anche facendo scorrere in alto o in basso la rotellina del mouse. La quantità inserita resterà memorizzata anche nelle altre tessere Dispositive. Se si desidera aggiungere delle opzioni, ad esempio lo stop order, occorrerà cliccare sull'apposita casella che dà accesso alla scheda ordine cliccando appunto sul tasto Opzioni. Con il bottone Pulisci è possibile cancellare i dati delle caselle. Quando è presente un ordine in negoziazione, compare la voce MOV a sinistra di quella del portafoglio che viene abbreviata in PF. Si può revocare l'ordine utilizzando l'apposito tasto Revoca oppure cliccando sulla voce MOV. Multibook Si può disporre sia della tessera singola sia del multibook a 12 moduli. Diversamente dalle finestre del multibook tradizionale, il buco orizzontale della Darwin consente l'immissione delle ordini. Basta un doppio clic sul prezzo scelto per l'operazione di acquisto o vendita. Questo fa comparire sotto la tessera book lo stesso modulo d'ordine prima descritto. Lo si può poi chiudere con un clic sulla freccetta situata nel suo angolo in alto a destra. Come nel multibook è possibile, dopo aver aperto la mascherina con un clic nel riquadro del codice titolo, visualizzare il grafico del titolo inserendo il segno uguale davanti al codice. Ottenere i prezzi denaro e lettera BDASC di più titoli, uno per riga, digitando fino a sei codici diversi separati da una virgola. Monitor Questa tessera permette di consultare contemporaneamente i titoli in portafoglio, gli ordini attivi ed eseguiti, la disponibilità normale e marginata, la liquidità non impegnata da ordini in negoziazione, il gain con due cifre riferite ai titoli in euro e ai titoli in dollari. La performance, quella visualizzata è la performance giornaliera. Con un doppio clic sul tasto, si apre la relativa finestra con il dettaglio di tutti i dati. Non è utilizzabile per inserire ordini, ma rientra fra le tessere dispositive, perché permette la revoca degli ordini ancora in negoziazione, il monitor. Cliccando infatti sulla freccetta a sinistra del nome del titolo corrispondente, si vedranno comparire in una nuova riga sottostante i dati dell'ordine e l'icona di un cestino. Come si può osservare, cliccando sul cestino si otterrà la revoca dell'ordine. Nel menu speciale di tessera, che si apre con il tasto destro del mouse, è presente solo nel monitor la voce Minimizza, che consente di visualizzare solo la striscia superiore. La stessa voce diventa Massimizza per permettere l'operazione inversa.